Novità in arrivo per gli utenti di Acquedotto Lucano a cominciare dal pagamento delle fatture che potrà essere effettuato anche nei punti lottomatiche in tutta Italia con carta di credito su sito web di poste italiane o con l'addebito direttamente sul conto corrente bancario. Prevista anche una nuova veste grafica della fattura con informazioni sui servizi dell'azienda, un grafico storico dei consumi dell'utenza, l'etichetta con i valori dell'acqua per ogni area e le indicazioni sul depuratore. Sì, anche la fattura diventa trasparente, la necessità di arrivare ai nostri utenti in modo chiaro sia attraverso la comunicazione dei servizi e quindi un miglioramento dell'efficacia dei servizi messi in campo dall'azienda e sia attraverso le nuove modalità di pagamento della bolletta, attraverso la comunicazione dei controlli che vengono fatti sia sul potabilizzato, sulla depurazione, sulla rete fognaria, attraverso una serie di interventi che l'azienda ha messo in campo per migliorare il servizio. Le nuove fatture vengono consegnate in questi giorni a 270.000 lucani, 20.000 dei quali che hanno fatto richiesta del servizio riceveranno anche una mail con la bolletta digitale.